Sono state approvate ieri dal Consiglio Comunale di Caserta le variazioni delle tariffe 2011 in relazione allo stato di dissesto della città. La delibera della stangata, così è stata definita da molti, quella che prevede l'aumento di tasse, ICI, oneri e addizionale IRPEF. Si parte dal COSAP, le prime maggiorazioni infatti riguardano le tariffe dei canoni per le occupazioni di suolo pubblico per il canone giornaliero della Fiera Mercato di Via Ruta che passa da 35 a 40 centesimi di euro al metro quadrato, mentre per gli spuntisti, sempre della Fiera Mercato, è stato reinserito il versamento di 50 centesimi per metro quadrato. In aumento anche l'IRPEF che passa così dallo 0,4 allo 0,8%. Diversi gli interventi anche sui servizi a domanda individuale, con le nuove tariffe, ha spiegato l'assessore al bilancio, nello spirito assicuriamo il servizio, ma anche la copertura delle spese e degli incassi. Quindi, per quanto riguarda l'asilo nido, scompare la fascia da 180 euro, ma ne restano solo due, quella da 200 e quella da 250, con un aumento di 5 euro per la tariffa più alta. 30 centesimi in più invece per la mensa scolastica, solo per i redditi più alti, senza toccare quindi le altre fasce. Aumenta anche l'ICI per le categorie di fabbricati A1, A8 e A9, che passa dal 6,50 per 1000 al 7 per 1000. Maggiorazioni, infine, anche per gli oneri di urbanizzazione dei permessi a costruire. Amarezza e delusione politica è stata espressa dai consiglieri di minoranza, che non hanno votato la delibera presentata dall'assessore spirito relativa ai correttivi di ICI, IRPEF, Menza, Asili e COSAP, mentre hanno condiviso il voto della maggioranza per quella relativa agli aumenti degli oneri di urbanizzazione. C'è una richiesta di sacrificio fatta ai cittadini, ha affermato Franco De Michele, capogruppo del PD, senza un piano di recupero e rilancio. E mentre l'intera minoranza abbandonava l'aula, la delibera riscuoteva i 21 voti della maggioranza.